Con 970 interventi prevalentemente di patologia oncologica ma anche di ricostruttive benigna, nonostante il Covid, la ASL di Chieti con la sua breast unit si conferma al top nella classifica italiana. A dirlo è un rapporto della Bocconi e del Centro per la Ricerca sulla Gestione della Salute e dell'Assistenza Sociale dell'Università, che ha analizzato le performance di 135 breast unit italiane aderenti a Seno Network, rete di centri senologici in Italia, comparando gli indicatori forniti dalle aziende sanitarie riguardo agli interventi chirurgici per tumore alla mammella e riferito al criterio dell'appropriatezza. Nel 2019 la breast unit dell'ASL Lanciano Vastochieti aveva superato il tetto dei 1000 interventi l'anno, con oltre 600 primi casi di tumore trattati e parimenti era aumentata la percentuale di ricostruzione in corso di intervento, come raccomandato da USOMA. Nel 2020 la chirurgia senologica, come detto, ha garantito 970 interventi con un indice di mobilità attiva extraaziendale del 51%. Gli indicatori selezionati sono stati il volume dei ricoveri, la percentuale di interventi conservativi, la percentuale di reintervento a 90 e 120 giorni per medesima patologia e di ricostruzione per intervento demolitivo per tumore. La valutazione è stata compiuta nell'ambito del rapporto OASI 2020, lo studio condotto ogni anno per seguire nel lungo periodo l'evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale e nel breve gli effetti causati dalla sfida senza precedenti del Covid. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. La breast unit, ha detto l'assessore, è frutto di un lavoro di squadra fatto di alte professionalità che lavorano con competenze e passione per la salute delle donne. A tutti loro, conclude l'assessore, va il mio personale ringraziamento perché gli obiettivi di qualità nell'assistenza prestata possono essere raggiunti solo da una grande squadra motivata e capace.